Ciao a tutti, io sono Desiree e benvenuti nel mio canale. Ho deciso di fare questo video grazie a Camilla Milanesi, che mi ha scelta come una delle vincitrici per il suo concorso. Quindi ho preso coraggio grazie alle sue bellissime parole che ha speso per me nel suo video e anche grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che mi hanno dato tanta carica nei commenti. Per il primo video ho deciso di fare uno speed painting in cui eseguo un ritratto di uno dei miei cantanti preferiti, che esce un po' la. Questo è il ritratto finito. Il video partirà circa alla metà del lavoro, perché il ritratto già l'avevo iniziato da tempo. Quindi ci sarà prima uno step by step con le fotografie e poi seguirà il video velocizzato. Ci tengo a fare un ringraziamento speciale alla persona che mi ha regalato il cavalletto per il cellulare. Tu sai chi sei, quindi grazie. E di nuovo grazie a Kami, davvero sei speciale, continua così perché ci piaci così come sei. E niente, io vi lascio al video e vi mando un bacione. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.